buonasera blenderisti voglio farvi vedere questa sera come in pratica evitare che le nostre point light ad esempio vengano riflesse sui materiali glossi per poter evitare questo questa riflessione sul sullo specchio è molto semplice serviremo dei nodi questo perché perché noi magari creiamo una plafoniera in 3d vogliamo che questa plafoniera abbia una sua luce quindi magari andiamo a piazzare una point light e ci vogliamo servire solo della luminosità ma non del fatto che la point light di per sé si veda nei materiali riflessi come in questo come in questo esempio come potete vedere ho una sfera che si riflette sul sul glossy però anche dietro una point light che essa stessa si riflette per evitare la riflessione sul materiale glossy quello del del quadrato per intenderci selezioniamo la luce andiamo sulle proprietà della luce d'accordo e dopo di che clicchiamo su use node si presenteranno immediatamente due nodi il nodo in uscita light output e le mission ok per appunto evitare che si rifletta sul sul materiale glossy aggiungiamo un mix shader tra il nodo emission e l'output per l'appunto dopo di che aggiungiamo un un nodo transparent mettiamo sull'altro sull'altro mix e dopo di che andiamo ad aggiungere un light path light path e dal colleghiamo il nodo da gloss def su fuck come potete vedere la nostra point light ancora emana la luce d'accordo infatti se vado a diminuire diminuirà anche la luminosità vedete ma non è riflessa sullo specchio se chiaramente tolgo il nodo la vedrò ancora questo chiaramente va fatto su tutte le luci di scena che non vogliono essere parente riflesse questo è tutto vi ringrazio ciao